Daniele Sciarvini, responsabile di agevolazioni di Artigian Cassa, che praticamente di fatto gestisce il bando, l'avviso Abruzzo Crea, generato dalla regione Abruzzo su un fondo di garanzia finanziato dal fondo FES. Allora, che cosa deve fare un imprenditore? Si ha intenzione, si ha un'idea imprenditoriale e deve venire da voi e deve chiedere una garanzia per avere accesso ad un credito bancario. Grazie per l'opportunità. Innanzitutto, questo è stato un bando europeo emanato dalla FIRA, dalla finanziaria regionale. Ha vinto la gara, se l'ha giudicata Artigian Cassa e NRT con una serie di confiti. Abbiamo cercato di mettere a terra tutto il know-how che abbiamo ormai con la gestione degli strumenti regionali, anche di garanzia. Nel caso specifico, per accedere all'agevolazione, abbiamo creato una piattaforma che si chiama AbruzzoCrea.it. L'azienda o il consulente o i confiti che seguono le aziende possono regarsi su questa piattaforma, prendere visione dell'avviso, ottenere le credenziali e poi di fatto iniziare a compilare la domanda. Quindi c'è tutto un percorso guidato che rende abbastanza agevole l'accesso a questa agevolazione. Che tipo di agevolazione è? È di fatto una garanzia che viene concessa all'azienda da parte della regione, da parte della FIRA. Il tutto ovviamente per rendere più agevole l'accesso al credito e quindi facilitare l'ottenimento di un finanziamento. Quindi invece di mettere garanzie proprie a fronte di un finanziamento che deve essere concesso comunque da un istituto finanziatore e sul sito AbruzzoCrea.it trovate l'elenco delle banche che attualmente sono convenzionate. Invece dicevo di mettere garanzie proprie interviene la regione a sostegno delle imprese. Senta dottore, noi abbiamo visto che praticamente con l'assessore abbiamo chiesto di avviare un'interlocuzione con le banche per aderire a questa convenzione. Ma in termini proprio tecnici o comunque generali, che tipo di riscontro ha questo tipo di bando? Che risposta avete avuto al di là della parte bancaria per la quale so che c'è una trattativa in alto della regione per cercare di inglobare quanto più possibile i studi bancari? Dal punto di vista invece della richiesta da parte degli imprenditori, che tipo di domanda avete avuto? Allora diciamo innanzitutto le banche, comunque ormai abbiamo una copertura su tutta la regione perché ci sono una serie di BCC convenzionate, c'è anche la BCC di Roma e soprattutto c'è anche il BNL, Artigian Cassa, quindi noi possiamo fare tutte e due le fasi. La risposta comunque da parte delle imprese e da parte dei consulenti inizia a essere importante, abbiamo già ricevuto una sessantina di richieste e praticamente 20 le abbiamo deliberate. Alcune sono di importi anche interessanti e quindi abbiamo iniziato a impegnare i primi fondi. Chiaramente tutti gli attori che intervengono nel processo devono di fatto giocare un po' il loro ruolo a pieno, ma diciamo un interesse lo stiamo comunque riscontrando. Per dare un'idea allo spettatore di che tipo di intervento c'è, l'entità, la grandezza, mi dica una sola cifra che avete finanziato, dei venti deliberati o comunque in generale, per capire su quali misure ci muoviamo. Allora, io credo che questa è una misura che vada a favore soprattutto delle piccole imprese, ma anche per piccoli importi, perché sapete che poi in Abruzzo c'è anche la limitazione dell'accesso al fondo centrale di garanzia e quindi per importi inferiori a 100.000 euro è sicuramente tagliata e infatti la maggior parte delle pratiche che abbiamo ricevuto sono di queste caratteristiche. Però ciò non toglie che abbiamo deliberato anche operazioni di importi più grandi. di fatto la garanzia che viene concessa a fronte di un finanziamento pari a 100 può raggiungere anche 80.